Io sono a Ciori che paravate A Ciori che paravate A Ciori che paravate Dario L'altro andate Quanto a me Sì Ma qui c'è un bar da l'amonte Che era purulante Quanto a me Sto a cantare la curva Ah ma A mamma io A mamma io Adesso a morire Adesso a un figlio E' di me E che volevo fare Ce ne potete fare niente No, a voi Avete una volta E' cosa che andava lassia pepe e ronnelli ci scialava con fratma il genzo ci scialava con fratma era pure che c'era uno come io fratma, ah che figlia venga a vedere che il nostro normale allora, faccia cattocchi dalla piccela poi armavano i carbonieri la polizia, la bordo e non si faccia e volete 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 ma voi quante ero a Carmela a Carmela quante ero in tua famiglia? tu? nato, carrile quante ero? quante figli ero? quante figli ero? quanto figli ero da te? tu? quanto sono? no ricordo 500 fratma 200 Rahman è nato il pulp questo quante figli ero? quante figli ero? o padre Angelo si papa e ai nato il movimento a questo come io era devonotalk marche si usato, era pure fatima poi fino a... ho usato lì Rocco era Cugino Rocco, era Rocco Cugino Rocco Cugino? eh, Rocco Cugino che direi che mi fai questa cosa? io non dico niente che non sesso e allora... insomma quanto anni avete? 90 ci perdo conto Gaglio a novembre faccio 90 anni che buona salute e me lo vuoi Gaglio un po' che ci diceva vero altre cose niente anche niente questo braccio manca manca non ci perdo e ora ci perdo e che facciamo? e che vogliamo fare? quanto disse? 96 lo 13 lo 14 lo 13 lo 14 1913 lo 13 1913 eh? lo 13 torrano torrano se ma... se ma terracino io ero 14 ma sempre se ma? se ma ero 14 eh? se ma... non ti capisci a tia? A zia mia! Chi è sempre una maldia? E ma grida il poveretto noziente! A zia mi ha ricordato! A zia, a zia! A zia! A zia! A zia! A zia! Cugina! Ci passava un anno! Ci passava un anno! E ora ci passavano giù! Lei è una perfezionata. Questa è percare! Siamo a 4 o 40? Siamo a 4 o 40? Un giorno 37! Siamo a 4 o 40! Siamo a 4 o 40! Siamo a 4 o 47! Questo meso? Sì! E io ti ho passato un po' E io adesso! Buona salute! Sì, grazie, grazie, è stato servito, sì, 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 no, io sono da Svizzera, da Svizzera. Sì, sono da Svizzera, tutti straviati, tutti straviati, una volta erano tutti qua, ora siamo tutti emigrati, erano, io quando sono andato a Svizzera stavo qua, la figlia stava su, e mi erano tutti, ora io stavo per convincere, per convincere che c'era una bella strada, e mi fa piacere, e mi fa piacere, però io non mi la paga, eh, non va a pagare niente, per un berbante, 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 ma ci stai a Svizzera, anche a Martato il figlio, per un'ora da Svizzera, che ancora è nata a Svizzera. Io sono martato, io ho un figlio, ho un figlio di 30 anni, ho un figlio di 30 anni io. 30 anni. Buono, buono, perché sono buono e martato, io ti chiedo ma, perché non ho scelto, certo, perché mi muovo, ma lo sa che mangio, ma io ci faccio andare da niente. Ma Nino a dove? Il figlio di 30 anni, il professore a dove? Eh? Il figlio di 30 anni? A dove? Il professore a dove? A cos'è? A che non ti capisci, ma mi capisci a mezzo straniero che c'è. La c'è? La c'è buono, sì. Io tutti i giorni la c'è. Ah, la c'è? E sì, la c'è? Ma hai visto la c'è? No. Ma non hai visto? No. Ma già da qui? No, sì, sì, e non hai visto. Ma vai a capo, vai a capo, vai a capo, non posso, non posso camminare. Ma io vai a capo. Io tutti i giorni, non mi capisci. Eh certo, io ero reale, ero reale. Sì, sì, io ero reale, lì all'ospedale. Però io, però io, che era sempre. E erano compagni, insomma, la stessa... Tra che erano compagni. Tra che erano parenti. Certo. C'è? C'è, certo. Eramo parenti con c'è da rosa, una canega. Eh sì, certo. Eramo quasi cugini, seconda cugina. O mamma, sai? A temarancia. E padre, ma erano ridito solo. Ma ma non c'è, non c'è. Ma non c'è, non c'è. Ma finio. Ma finio. A paratiera un saluto, un barratio. C'è niente più. Non. Cambiato tutto il mondo, cambiavo. Cambiato tutto. Non c'è rispetto più, rispetto niente. No, 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 non c'è. Guardate qua. Cambia. Guardate qua. Sempre aperto. Sempre aperto. non ti gusti, porta aperto e cuore aperto e cuore che sai ma non ti parla, si mettono le macchine qua ma non ti parla ma non ti parla statevi buoni, arrivederci grazie, statevi serviti io quando passava ci sbiava la famiglia si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, è una buona compagnia, non dà più no non dà più arrivederci statevi buoni arrivederci arrivederci